Non è facile per te affrontare questo argomento, però è importante parlarne. Lo state facendo insieme alla Polizia di Stato in maniera molto efficace nelle scuole. Sì, infatti devo veramente ringraziare i due funzionari che lavorano con tanto impegno, Tommaso Bellavia e Paola Genovese, che ci hanno permesso anche la Polizia di Stato, che veramente sono grandiosi, affrontano questo argomento con delicatezza e per come va affrontato. Abbiamo avuto un'ottima risposta da parte dei ragazzi, tra l'altro c'è stata molta commozione, non è facile, anche per me stessa non è stato facile, ma ripeto, la mia esperienza, il mio raccontare e consigliare ai ragazzi e trasmettere comunque la sicurezza e nel dire io ci sono, voglio proteggervi, datemi modo di proteggervi e soprattutto datemi modo di aiutarvi. Io ho voluto rassicurare, comunque devo dire che c'è stata molto all'inizio sfiducia da parte dei ragazzi, perché oggi se ne sentono tante anche il fatto stesso di denunciare. Ci sono stati molti casi che a volte i ragazzi intervenivano dicendo ma ci sono stati casi che hanno denunciato ma non sono stati salvati, quindi erano molto sfiduciati. Io mi sono sentita di dire perché effettivamente è così, ho avuto molto fiducia nella giustizia, oggi siamo qua e purtroppo Eligia è stato un caso che non ha denunciato. Eligia è stato un caso dove ci siamo ritrovati dentro una disgrazia. Spesso e sono comunque anche, questo ci tengo a sottolineare, che ad oggi le leggi stanno cambiando, vogliono diminuire i numeri e questa è una grande cosa perché le leggi oggi ti permettono di proteggerti, di tutelarti e sto effettivamente vedendo che comunque i numeri di denunce stanno aumentando. Anche la fondazione di Eligia, devo dire che la fondazione sta ricevendo tante richieste d'aiuto e noi in collaborazione con le istituzioni abbiamo già operato e tutt'oggi continuiamo a dare sicurezza a queste persone che ci contattano. Ricordiamo che lo faremo in modo anche molto più importante, pregnante, presente insieme a tante autorità, veramente hanno aderito a questa iniziativa. Io ricordo, stiamo arrivati purtroppo a un anniversario, un anniversario è una parola forse un po' fuori luogo, comunque sono due anni che è passato, siamo a due anni esatti dalla scomparsa di Eligia e di Giulia. Io continuo a dire che anche Giulia è stata uccisa, anche se poi nelle motivazioni della sentenza o comunque dell'accusa si parla di procurato aborto, però è una donna che viene uccisa in quel modo. Io l'ho avuta fra le braccia mia nipote, era quasi tre chili, l'ho avuta fra le braccia, ho fatto tutto quello che mia sorella mi aveva detto di fare quando Giulia doveva nascere, gli ho messo il primo completino del primo giorno, l'ho cullata, gli ho cantato anche la ninna nanna. Mia nipote era quasi tre chili, l'ho avuta io, nel mio petto. Sono passati due anni da quel momento e questo momento verrà ricordato grazie anche alla collaborazione di tante associazioni, naturalmente le forze dell'ordine, la polizia Nia Primis, che da sempre è stata molto vicina alla famiglia Ardita, ci sarà il prefetto, il vicario, ci sarà il comandante dell'arma dei carabinieri, insomma ci sarà forse anche il procuratore. Insomma ci saranno queste personalità e tante associazioni per una serata, che è una serata appunto dove si parlerà di femminicidio, molto importante, con la presenza degli studenti, si svolgerà sabato sera al Palazzetto dello Sport. Sabato sera... Alle 21, diamo questo appuntamento alle 21. Sì, alle 21, veramente ragazzi sono contentissima perché hanno aderito, mi hanno detto Luisa non sei sola, ci siamo anche noi, quindi ci sono anche molti ragazzi che vogliono far parte della fondazione, quindi sabato sera ci sarà una serata dove ci saranno testimonianze, musica, poesia, arte.